Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà a lui, lo Spirito della Verità vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Gesù manda il suo discepolo, ancora troppo piccolo per capire quello che gli vuole dire dallo Spirito della Verità che gli annuncerà le cose che lui ha detto. Bravissimo, eccellente.